Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. In Primo Re, capitolo 18, verso 21, dice, fino a quando, fino a quando zoppicherete, zoppicherete, zoppicherete dai due lati? Punto interrogativo. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse, fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite Lui. Il popolo non gli rispose nulla. Il messaggio di oggi è, leggiamolo insieme, fino a quando zoppicherete dai due lati? La domanda viene rivolta a noi oggi, perché anche noi arranchiamo nelle vie del Signore. Due volte e qualche altra volta, non così diretto al popolo, c'è nella parola del Signore. In Giosuè, capitolo 24, verso 15, anche qui. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli amorei dove si trovavano loro, nel paese dei quali abitate. Guardate, quanto a me, dice Giosuè, e alla casa mia serviremo il Signore. Scegliete oggi chi volete servire. È una scelta che bisogna fare, amica, amico. Non va tutto da sé nella vita. Le nostre scelte cominciano fin dall'infanzia. Che vogliamo studiare? Che ramo vogliamo prendere? Per che cosa siamo portati? E poi man mano ci sono sempre scelte, scelte, scelte. Il lavoro da fare, il matrimonio, scegliere, scegliere, scegliere. Dobbiamo prendere delle decisioni. Se restiamo così addormentati, non andiamo da nessuna parte nella vita. Scegliete oggi chi volete servire. Questo è il popolo di Dio. È la nuova generazione. Sono figli di eredità. Sono eredi dei loro padri che erano morti nel deserto. Avevano le memorie piene di testimonianze raccontate dai loro padri. Avevano anche i luoghi che parlavano di testimonianze potenti. Infatti, se leggiamo in Giosuè capitolo 4, verso 21, Dio stabiliva delle testimonianze che dovevano servire per parlare alle prossime generazioni. Poi parlò ai figli di Israele e disse loro In avvenire i vostri figli domanderanno ai loro padri Che cosa significano queste pietre? Che cosa significano queste pietre? Dite Dio fermò l'acqua del Giordano per farci passare per l'asciutto. Avevano testimonianze tremende. Leggiamo nel verso 22. Signore, grazie. Grazie, grazie, grazie. Allora voi lo farete sapere ai vostri figli e direte Israele attraversò questo Giordano all'asciutto. L'obiettivo di Elia è di far conoscere che Yahweh è Dio. L'obiettivo di Giosuè è di far decidere per Dio a noi ci viene posta la stessa domanda ma secondo te perché ci viene posta? perché anche noi dobbiamo decidere per Dio decidere per Dio è molto importante perché tu ti senti tranquillo ti senti tranquilla tu non puoi immaginare la tranquillità che ho io quando predico il Vangelo così com'è mi sento avvolto da Dio stesso che mi incoraggia a farlo e a viverlo a viverlo e a predicarlo perché solo così funziona io ringrazio Dio e con scrupolosità cerco di seguire minimamente con disciplina su me stesso perché so che se non facciamo così non funziona questa è una grande opera che il Signore mi ha affidato ci ha affidato perché tu sei partecipe tu che sostieni quest'opera sei partecipe però io ho questo principio che se io non mi attengo a ciò che dice il Signore nella sua parola quest'opera in pochi giorni finisce perché le cose funzionano quando noi facciamo come Dio dice quello che Dio dice se noi lo facciamo Dio fa quello che dice quando noi siamo preoccupati per portare avanti l'opera del Signore Dio si preoccupa per portare avanti noi c'è uno scambio con Dio non è un mercanteggiamento ma perché Dio deve benedire i disubbidienti perché dimmi a volte succede che ci sono dei giovani che non sono consacrati a Dio e cercano un partner consacrato a Dio e io li guardo in faccia e dico ma perché cerchi un ragazzo consacrato a Dio che serve Dio perché cerchi una ragazza consacrata a Dio ma sai quelli sono più seri sono più e beh ma Dio darebbe a te una sua figlia in mano a te che la porti lontano da Dio Dio darebbe a te un marito che serve Dio per fargli perdere per fargli perdere il ministero Signore aiutaci questa mattina è molto importante misurarci nelle cose noi vogliamo che Dio partecipi le sue benedizioni a noi ma ieri sera nel culto se tu c'eri abbiamo letto riguardo ad Abramo Abramo è stato benedetto da Dio ma lui era obbediente a ciò che Dio gli diceva l'ubbedienza va al meglio del sacrificio Signore aiutaci noi questi concetti biblici li dobbiamo assorbire e li dobbiamo mettere in pratica perché se no parliamo giusto per dire l'obiettivo di Elia è di presentare Yahweh Dio e non gli idoli che avevano fatto sviluppare in Israele il nome era popolo di Israele ma i fatti non corrispondevano Dio lo avevano messo all'ultimo posto anzi lo offendevano sostituendolo con idoli la storia si ripete noi ci chiamiamo cristiani nella nostra nazione ma in realtà la maggioranza la religione di Stato adora gli idoli siamo pieni da tutte le parti non è qualcosa che non si può dire in primo corinzi 10-20 leggiamo insieme noi siamo la stessa cosa tutt'altro dice l'Apostolo Paolo io dico che quello che voi sacrificate agli idoli sono sacrificate ai demoni e non a Dio ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni signore aiutaci lo stesso dicasi cartoni animati che guardiamo facciamo guardare i nostri figli film intrattenimenti perciò fuggite l'idolatria dice la parola del Signore nel verso 14 leggiamolo insieme perciò perciò miei cari fuggite l'idolatria come ce lo deve dire il Signore ed altri generi di intrattenimenti come Halloween che è stata dichiarata originaria ed è una festa satanica Dio ci ha fatti intelligenti leggiamo nel verso 15 Signore aiutaci questo io parlo a persone intelligenti giudicate voi quello che dico proprio perché Dio ci ha fatti intelligenti noi abbiamo la possibilità di decidere anzi noi siamo chiamati a testimoniare noi dobbiamo dar ragione della nostra fede qualcuno dice ma io adesso che torno a casa di mia suocera a casa di mia mamma adesso loro usano un altro sistema loro adorano gli idoli loro fanno delle feste pagane io come devo fare ebbè il momento che tu che hai ricevuto un cambiamento sei nata di nuovo sei nato di nuovo ti metti con santa passione con gentilezza con calma gli spieghi dicendo io non faccio più questo perché il Signore mi ha fatto comprendere che questo è sbagliato chi lo deve dire tu che hai conosciuto la verità tu che hai avuto dei riscontri che Dio ti ha parlato tu che sei nata di nuovo tu che sei nato di nuovo sei con lei sei colui che dove le cose vengono fatte nel sistema pagano devi spiegare io questo non lo faccio più anzi ti voglio mostrare nella Bibbia che Dio dice che questo è peccato e se lo fai anche tu vuol dire che stai peccando contro Dio io ti esorto a non farlo più sì ma quelli poi mi vedono di cattivo occhio ma sorella ma il Vangelo cosa dice che noi avremo difficoltà quando cominciamo a camminare col Signore ma siamo chiamati a questo perché tu sei come la luce dove Dio ti ha messo e se la luce diventa tenebre o se il sale diventa insipido che cosa succede Signore aiutaci questa mattina noi credenti non solo non dobbiamo fare quando abbiamo dei riscontri nella parola del Signore ma dobbiamo essere di aiuto e dobbiamo collaborare con Dio per trasferire i concetti biblici quello che Dio dice alle persone che ci circondano se se il battesimo del suo bambino a otto giorni e tu sai che chi ha creduto sarà stato battezzato e chi non ha creduto sarà condannato il bambino sai che non crede spieghi con calma a tua nuora a tuo genero che tu sei d'accordo in tutto quello che fa ma a quella festa non partecipi perché la tua presenza vuol dire che tu fai esattamente quello che fanno gli altri la nostra presenza la nostra partecipazione non crea benessere fa male a noi e fa comprendere anche a quelli che ci seguono che noi ci lasciamo andare giusto per invece se siamo seriamente servitori del Signore ci atteniamo a ciò che dice Dio perché Dio è più importante delle persone che ci circondano domani mattina ti trovi Dio non ti trovi i tuoi parenti glielo devi spiegare glielo devi dire poi tirino le somme ma tu non puoi partecipare ci sono tante altre cose per esempio ho detto Halloween in questo momento se tu sai che questa è una festa satanica demoniaca devi cercare di collaborare e di far sapere ai tuoi di famiglia che è pericoloso perché ci sono infezioni spirituali che si attaccano addosso fa parte di stregoneria di magia di cose che infettano l'anima il corpo l'essere la casa capiamo bene e non c'è motivo di offenderci perché stiamo offendendo Dio il popolo non si offese nei due richiami fatti da parte di Dio accettarono presero coscienza che stavano sbagliando allora ciò che aveva detto Elia e ciò che aveva detto Giosuè portò frutto per la gloria di Dio guardiamo il popolo cosa risponde se noi non diciamo niente e allora le cose vanno come sono e perché Dio ti ha salvato dove ti trovi perché tu sei una luce luce che vuol dire se è diventata una candela se è uno che porti la luce di Cristo dici quello che dice Cristo perché quello è giusto guardiamo quando noi facciamo la nostra parte come fece Giosuè come fece Elia come le persone capiscono la cosa peggiore non dirgli niente amico mio amica mia guardiamo in Giosuè capitolo 24 verso 21 e il popolo disse a Giosuè no noi serviremo il Signore alleluia chissà quante volte le persone che tu conosci avrebbero smesso di fare certe cose ma tu non gli hai detto niente perciò l'esempio di Giosuè l'esempio di Elia oggi parla a noi perché siamo responsabili vedi che bella risposta tutto il popolo cambiò perché quando noi diciamo la verità di Dio ci sono delle persone che accettano io ringrazio Dio che attraverso questo ministero quando tutti dicono che nessuno risponde che il terreno è duro che la gente non vuole sapere noi tutti i giorni riceviamo messaggi di persone che cambiano perché ascoltando il Vangelo il Vangelo è la potenza di Dio e trasforma le persone non li dobbiamo cambiare noi è Dio che lo fa quando noi portiamo la sua parola noi contiamo su Dio sappiamo di non avere la possibilità di fare qualcosa noi dobbiamo solo trasmettere la verità questo è importante la verità di Dio non la verità secondo noi rispose no noi serviamo il Signore leggiamo nel verso 23 tante volte la colpa è nostra che non diciamo niente Giosuè disse togliete dunque via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi e inclinate il vostro cuore al Signore che è il Dio di Israele qui notiamo che cosa dimostra che nonostante le grandi opere che Dio aveva fatto era subentrata l'idolatria hai capito bene perciò anche nel Nuovo Testamento non ne parla solo Paolo ma anche Giovanni l'ultimo rigo della sua epistola primo Giovanni 5 21 ci raccomanda figliuoli guardatevi dagli idoli giusto per mettere l'ultima raccomandazione qui nel Nuovo Testamento non sono inclusi solo gli idoli visibili ma anche l'apostasia i credenti noi credenti che sappiamo i principi di Cristo e degli apostoli e facciamo il contrario compreso le seduzioni spirituali e lo spirito di religiosità negli ultimi tempi oltre all'idolatria in primo Timoteo 4 1 dice che si accumuleranno tante altre cose non visibili lo spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni dottrine ispirate dai demoni che ci allontanano dalla fede e che noi dobbiamo combattere prima di tutto che non si radichi una fede moderna ma quella di una volta insegnata ai santi molto importante questo dobbiamo mantenere una continua sorveglianza su di noi per poi vigilare su quelli che sono insieme con noi il fratellastro di Gesù nella sua epistola in Giuda capitolo 1 verso 3 dice così leggiamolo insieme oh che sei grande signore carissimi avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza la salvezza della nuova nascita della nuova vita in Cristo mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede non quella moderna quella che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre qual è la differenza della della fede una volta insegnata è quella moderna è enorme tu dici ma io quella quella una volta insegnata ai santi non la so perché sono nato in questo secolo ascolta la fede apostolica si trova nel Vangelo nel Nuovo Testamento non c'è bisogno che dovevi nascere 1700 anni fa adesso il Vangelo così come ci porta la fede antica una volta insegnata ai santi che fino al 300 c'erano delle espressioni particolari fino al 300 dopo Cristo la Chiesa parlava di nuova nascita e battesimo nello Spirito Santo Signore aiutaci questa mattina la prima cosa era la nuova nascita e dopo era d'obbligo il battesimo nello Spirito Santo gli apostoli si spostavano da una parte all'altra per consolidare questo metodo perché questo era il metodo che Gesù aveva dichiarato guardiamo San Paolo in Atti capitolo 19 verso 2 disse loro riceveste lo Spirito Santo quando credeste gli risposero non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo erano salvati già erano già discepoli se leggiamo nel verso 1 troviamo che erano credenti che già testimoniavano mentre Apollo era a Corinto Paolo dopo aver attraversato le regioni superiori del paese giunse ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli questa parola ci fa notare che loro già predicavano il Vangelo si esercitavano a prendere in considerazione gli insegnamenti di Cristo trasmessi da Giovanni Battista erano salvati ma dovevano essere battezzati nello Spirito Santo perché Giovanni Battista in Matteo capitolo 3 verso 11 aveva anticipato profetizzato dicendo io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco quando essi udirono nel capitolo 19 verso 5 sapendo che San Paolo era un apostolo udito questo furono battezzati nel nome di Gesù bellissimo senza dubbio l'apostolo li battezzò con la formula lasciata da Gesù in Matteo 28 19 perché Gesù aveva detto che come erano presenti la divinità Padre Figlio e Spirito Santo quando Gesù fu battezzato dice andate dunque fatemi i discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo infatti la Trinità era presente al Battesimo di Giovanni perché il Figlio pregava per la consacrazione e per l'inizio del suo ministero l'inaugurazione del suo ministero Gesù pregava il Padre dal Cielo diceva questo è il mio diletto Figlio e lo Spirito Santo era corporalmente visibile in forma di colomba su di Lui ecco la Trinità e Gesù vuole che noi invochiamo la Divina Trinità sopra di noi quando noi ci immergiamo nell'acqua e così dobbiamo fare e quando Paolo secondo i principi apostolici e secondo Gesù aveva detto di fare nel capitolo 19 verso 6 leggiamo insieme è semplice e avendo Paolo imposto loro le mani lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano questo è il metodo apostolico questo veniva letteralmente amministrato lo possiamo leggere in atti 8 17 leggiamolo insieme quindi quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo nel capitolo 9 verso 17 e 18 leggiamo allora Anania andò entrò in quella casa qui è San Paolo gli impose le mani e disse fratello Saulo il Signore quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo leggiamo il verso 18 e in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista poi alzatosi fu battezzato in acqua come segno di essere stati battezzati nello Spirito Santo bisogna parlare in lingue se no il pastore che ne sa io ho avuto dei credenti che mi dicevano che erano stati battezzati nello Spirito Santo a Roma non lo so dove però io non li ho mai sentiti nella Chiesa per tanti anni parlare in lingue uno secondo la loro vita non corrispondeva non gli ho detto mai tu non sei battezzato nello Spirito Santo perché non li vedevo preparati per accettare loro pensavano così ma non è che pensiamo noi per essere confermati che uno è battezzato nello Spirito Santo bisogna sentirli parlare in altre lingue questo è il segno se no noi che ne sappiamo leggiamo in atti 10 46 grazie signore per la tua parola perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio se leggiamo dal 44 vediamo come mentre la predicazione del Vangelo viene fatta lo Spirito Santo scende io credo che c'è qualcuno mentre Pietro parlava così lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio il verso 44 forse c'è qualcuno che desidera essere battezzato nello Spirito Santo lo Spirito Santo ti battezza in questo momento una bellissima testimonianza di una sorella che è venuta proprio per dirmi fratello mentre tu predicavi e parlavi del battesimo nello Spirito Santo io avevo un desiderio così forte mi sono alzato mi sono spostato spostata verso la televisione ho alzato le mie mani ho detto Signore tu mi devi battezzare nello Spirito Santo avevo un desiderio così forte il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo mentre tu parlavi proprio come leggiamo nel verso 44 se c'è qualcuno a casa alzati in piedi spostati verso la televisione prega il Signore dicendo Signore io desidero che tu mi battezzi nello Spirito Santo mentre Pietro parlava così lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola gloria sia resa al Signore in Atti 19 7 guardiamo Signore grazie tu sei grande erano in tutto circa 12 uomini qui non c'erano donne qui possiamo comprendere la differenza tra la Chiesa di Stato e la Chiesa Apostolica il linguaggio e il modo è diverso si chiamano tutti e due cristiani perché in Italia risultiamo che siamo cristiani tutti 56 milioni 60 milioni quanti siamo ma non è così quando fu cambiata nel 300 la Chiesa di Stato per fare numero e per fare politica prese di tutto e di più mettendo insieme statue che aveva di altri dei e gli cambiava il nome San Pietro a Roma era un idolo precedente hanno detto lo chiamiamo Pietro e la gente lo bacia e pensa di baciare San Pietro vedi dove siamo arrivati signore aiutaci erano credenti fatti col segno della croce tu sei cristiano tu sei cristiano tu sei cristiano senza la nuova nascita senza il battesimo nello spirito santo un missionario andò in Africa e portò un po' di roba un po' di farina qualcosa da far mangiare e non gli predicò il Vangelo a un giovane gli disse tu devi diventare cristiano e lui disse sì sì va bene che devo fare no disse il missionario è semplice non mangiare carne il venerdì e due o tre cose ah va bene allora facciamo così non ti preoccupare e allora hai capito non devi mangiare carne il venerdì più qualche altro piccolo insegnamento della chiesa di stato e lui disse sì sì va bene e allora il missionario gli disse allora da questo momento tu sei cristiano tu sei cristiano tu sei cristiano eh sì va bene va bene allora ti raccomando la settimana dopo il venerdì quel missionario andò a casa di questo neofito e lo trovò con una bella bistecca a tavola e disse ah ma che stai facendo questo è peccato perché perché questa è carne io ti ho detto che non dovevi mangiare carne e lui disse no ma questa non è carne questo è pesce ma adesso voi che non distinguo neppure la carne dal pesce questo è carne non è questa è carne non è pesce il neofito rispose al missionario no questo è pesce perché io prima di sedermi ho detto come hai fatto tu con me tu sei pesce tu sei pesce tu sei pesce l'aveva fatta diventare pesce i cristiani così come i bambini un po' di acqua in testa sei cristiani ecco abbiamo tutta l'italia cristiana prima del 300 quando non c'era la chiesa di stato per fare politica e fare business c'era un metodo era quello della nuova nascita e il battesimo nello spirito santo quelli erano i credenti quelli sono gli insegnamenti apostolici quelli ancora sono dichiarati nel vangelo e quella è la chiesa di gesù cristo che si vuol dire quel che si vuole prima israele si chiamavano i pagani e anche gli israeliti adesso si chiamano cristiani i credenti e anche i non credenti tutti ci chiamiamo cristiani ma non è così c'è la differenza tra la chiesa di stato e la chiesa apostolica il linguaggio e il modo diverso si chiamano tutti e due cristiani come al tempo di Giosuè e come al tempo di Elia si chiamavano israeliti ma in realtà c'è israele secondo la carne e israele secondo lo spirito leggiamolo insieme in secondo corinzi 10 3 così anche adesso in realtà sebbene viviamo nella carne non combattiamo secondo la carne che usano i sacrifici agli idoli e ai demoni come dice in primo corinzi 10 18 leggiamolo guardate l'israele secondo la carne quelli che mangiano i sacrifici non hanno forse comunione con l'altare signore aiutaci la parola del signore dice che dobbiamo lasciare queste cose in primo corinzi 10 14 leggiamolo un'altra volta per cortesia leggiamo fuggite l'idolatrice perciò miei cari fuggite l'idolatrice nel verso 15 Dio ci ha fatti intelligenti io parlo a persone intelligenti giudicate voi che sto leggendo io leggo la parola di Dio in primo giovanni capitolo 5 verso 21 san giovanni dice figlioli guardatevi dagli idoli in primo corinzi 10 18 dice che c'è l'israele secondo lo spirito e l'israele secondo la carne guardate israele secondo la carne quelli che mangiano i sacrifici non hanno forse comunione con l'altare che usano i sacrifici agli idoli e ai demoni in primo corinzi 10 18 dice proprio questo guardate israele secondo la carne quelli che mangiano i sacrifici presso gli idoli hanno comunione con l'altare quelli secondo lo spirito quali sono in romani capitolo 8 verso 5 ci dice la differenza dov'è infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne vivono nella mondanità vivono facendo tutto quello che invece quelli che sono secondo lo spirito pensano agiscono si muovono si nutrono e mantengono un rapporto spirituale con lo spirito santo ma ciò che brama la carne è morte amico mio ciò che brama la carne è morte amica mia leggiamo il verso 6 verso 6 ma ciò che brama la carne è morte mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace perciò Gesù dice che devi nascere di nuovo leggiamolo insieme in Giovanni 3 3 c'è bisogno della nuova nascita per essere in verità in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio e se non è rinato spiritualmente nel verso 5 dice non possiamo entrare nel regno di Dio in verità ti dico che se uno non è nato di spirito non è rinato spiritualmente non può entrare nel regno di Dio e deve ricevere la potenza dello spirito santo che Gesù ha detto in atti 1 8 è valido anche oggi questa è la dottrina apostolica voi riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme in tutta la giudea e Samaria e fino all'estremità della terra e dobbiamo essere battezzati nello spirito santo come dice in atti 2 4 leggiamolo insieme tutti furono riempiti di spirito santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo spirito santo dava loro di esprimersi alla sorpresa dei credenti di allora o alla sorpresa dei credenti di adesso la risposta la da Pietro se tu credi che Pietro o San Pietro come lo vuoi chiamare è l'indicatore di direzione nel verso 38 dello stesso capitolo dice che ci dobbiamo ravvedere ravvedere vuol dire come fecero quelli al tempo di Giosuè come fecero quelli al tempo di Elia vuol dire ritornare a Dio ai principi apostolici leggiamo il verso 38 Pietro dice a noi questa mattina ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome del padre del figlio e dello spirito santo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete dono dello spirito santo perché la promessa è anche per noi leggiamo il verso 39 quando sei grande signore perché per voi è la promessa per i vostri figli i vostri nipoti tutti quelli che verranno lontani nel tempo fino al ritorno del signore per quando il signore nostro dio ne chiamerà per lungo tempo appresso e così oggi hai compreso la scelta che devi fare non restare nell'abbandono senza interessarti oggi abbiamo ancora tempo oggi facciamo ancora in tempo di convertirci a dio e seguire le direttive che troviamo nella sua parola perché la sua parola è verità e oggi più che mai la possiamo leggere direttamente come non mai i tempi dell'ignoranza dice san paolo sono ormai passati siamo intelligenti da poter leggere e verificare personalmente la verità di dio il vangelo che è la potenza di dio per la salvezza di chiunque crede al vangelo non a ciò che viene detto fuori del vangelo vogliamo ringraziare il signore e oggi la decisione la devi prendere tu perciò non la può prendere un altro per te allora decisero loro oggi devi decidere tu perché questa è la verità di di il vangelo ringraziamo il signore signore preghiamo insieme signore ti preghiamo porta luce attraverso la tua parola a coloro che non ti conosco ma ti prego in un modo speciale signore questa mattina anche per coloro che hanno conoscenza dagli la saggezza di saper parlare agli altri della verità del vangelo di non conformarsi offendendo te a di mantenere la posizione nel dire signore quello che dici tu è la verità e io mi attengo a quello che dici tu e con amore spiegherò ai miei parenti ai miei amici perché non condivido quel che fanno perché tu dici di fare diversamente grazie per la tua parola signore a te rendiamo lode onore e gloria ora e sempre amén amén di vita punto org a te grazie a te